Avvocato, pensa che è legata alla sua attività politica? Penso proprio di no, visto che non ho avuto né incarichi a livello assessorile, né incarichi decisionali che possano aver comunque compromesso o dato fastidio a qualcuno, quindi penso più che altro che si sia trattato, io spero che si sia trattato di un errore. Che idea si è fatta? Non ce l'ho proprio un'idea, perché sicuramente è un atto vandalico, poi molto probabilmente qualcuno si è trovato di fronte a determinate situazioni, non so se il nome mio, il nome di mio fratello, ma onestamente non credo di avere né sospetti né idee su qualcun altro.